Ciao a tutti, sono Valerio Novara di Feige Network. Oggi vi parlo di Volevo nascondermi, uno dei film più candidati ai David di Donatello, con più candidature ai prossimi David, in cui c'è protagonista uno spettacolare Elio Germano. Avrebbe potuto intitolarsi Quando l'arte salva la vita, oppure la storia ricondita di un artista, un pittore, anche troppo poco conosciuto dalle nuove generazioni che ha vissuto nel secolo scorso. Ebbene, il film è diretto da Giorgio Di Ritti e purtroppo la pellicola non è potuta stare così tanto sul grande schermo al cinema perché era uscita un paio di giorni, se non ricordo male, e poi c'è stata la seconda ondata del coronavirus e quindi purtroppo i cinema hanno dovuto chiudere. Un film che vi consiglio di recuperare se ancora non l'avete fatto perché trasmette dei messaggi molto importanti ed è tecnicamente girato benissimo. Partiamo dal dire che se volete sapere la storia di Antonio Ligabù, il pittore di cui si parla nel film, non starò qui a raccontarvela, ma parleremo di due o tre eventi che hanno caratterizzato poi la sua vita e che sono stati poi determinanti per lo sviluppo del personaggio interpretato da Elio Germano. Se volete andate su Wikipedia per queste cose, sul sito Feige Network, noi cerchiamo poi di raccontarvi quello che c'è che va al di là delle recensioni dei film, delle serie tv e delle storie, raccontiamo delle storie di quello che c'è dietro al film e dietro l'interpretazione di alcuni attori. In questo caso abbiamo un film che narra la storia di vita e di alcuni passaggi della vita di Antonio Ligabù, artista della metà del 1900 e un'interpretazione di Elio Germano che ha tutte le carte in regola per fargli vincere come miglior attore protagonista il David di Tonatello il prossimo 11 maggio, quando ci sarà la cerimonia di premiazione. Partiamo subito col dire che è un'interpretazione che ho trovato spettacolare, nel senso che io ho definito l'interpretazione di Elio Germano come fosse stato in transagonistica, nel senso che l'ho visto veramente trasformarsi. Lui è un grande trasformista ed è uno degli attori italiani più amati, se vogliamo, a livello internazionale che si sta imponendo proprio per il suo trasformismo ad interpretare personaggi sempre diversi. Lui aveva poi, tra l'altro, l'anno scorso girato anche Favolacce e era già stato in un film in cui interpretava un artista, in questo caso era lo scrittore Leopardi, qualche anno fa, non so se molti di voi si ricordano. Un film che però non ricevette anche l'attenzione mediatica che ha ricevuto, volevo nascondermi, che già dal titolo ci fa capire quanto l'uomo Antonio Ligabù fosse un uomo che ha vissuto una vita fatta di stenti, di privazioni, di vergogna e del volersi nascondere. La prima scena emblematica e riporta poi al titolo del film quando si vede Antonio Ligabù è nascondersi appunto sotto questo telo nero al quale si vede solo l'occhio, lui che si guarda intorno all'interno di una clinica perché poi durante la sua vita molte volte andrà per queste cliniche psichiatriche in questi centri di riabilitazione per dei problemi psichici e anche fisici che non riuscirà mai a risolvere del tutto. Ci sono due tre momenti, io parlo di tre momenti chiave nell'infanzia di questo personaggio che lo hanno poi portato ad estranearsi dalla realtà e a trovare nell'arte l'unico modo per comunicare ed esprimersi. Il primo lui nasce in svizzera da genitori italiani il primo è la morte prematura dei fratellini, dei tre fratelli e della madre biologica. Quando lui viene affidato ad un'altra donna e non riesce ad avere questo rapporto positivo con questa donna e addirittura viene espulso sia dalla scuola sia dalla Svizzera per maltrattamenti verso questa donna. Ma tutto secondo me risale alla sua infanzia quando questo bambino viene additato addirittura dal maestro di scuola tu non meriti di esistere. Per diverse occasioni nella sua vita l'uomo Antonio Ligabue viene additato come una persona ai margini, una persona che non merita di stare tra gli esseri umani e quando si è mandato a Gualtieri, provincia di Reggio Emilia, lì conduce per alcuni anni una vita fatta di stenti e di privazioni immortalata benissimo. Ho avuto modo di vedere tramite la fotografia del film questi paesaggi molto bucolici di una Emilia Romagna che è stata quella della metà del 1900. Ho trovato bellissimo poi il rappresentare l'eleganza e la bellezza in contrapposizione con quello che era lo stile di vita di questo personaggio. Una casa trasandata, lui molto trasandato anche nei vestiti. È una persona che parlava poco, vi capiterà durante il film di non riuscire a capire cosa dice Elio Germano. È assolutamente normale. Come ho detto anch'io il film non vuole farvi capire la comunicazione del personaggio attraverso le parole ma attraverso i suoi quadri. Ed è proprio a Gualtieri, in Reggio Emilia, che c'è il punto di svolta della vita di questo personaggio emblematico. Conosce uno scultore, Mazzacurati, che lo fa entrare dentro casa sua. Si vede questa stanza piena di sculture, di quadri. Lui viene quasi accecato, si innamora subito, perdutamente, dell'arte e comincia ad esprimersi attraverso l'arte. Disegnando animali, per lo più è emblematica la scena in cui disegna la tigre e fa il verso, fa il verso al quadro. Come a voler tirare fuori le bestie che ha dentro, i fantasmi che ha dentro. E anche il suo modo di comunicare, un modo fuori dal normale. Non riusciva a comunicare nemmeno con le donne. Cioè una scena in cui appunto con una donna che ha la possibilità di baciare, di scoprire l'atto sessuale, non riesce nemmeno a farsi sfiorare. Questo rapporto con gli animali viene evidenziato anche nel rapporto con i bambini. Un animo da bambino che è emblematica la scena in cui lui disegna una bimba da poco morta, lì proprio nella città di Gualtieri, e urla dove sei? Con un misto tra lo straziante e il commovente che, devo dare atto, Elio Germano ha saputo interpretare al massimo della sua bravura. Io l'ho definita transagonistica perché veramente ho trovato questa interpretazione pazzesca, nel senso che lui, anche attraverso il linguaggio del corpo, le movenze fisiche di un uomo con la gobba, rachitico, lui si è dimagrito tantissimo l'attore per entrare nel personaggio, riesce a comunicare con tutto, fuorché le parole. A questo modo di sbiascicare che non ti fa comprendere, ma attraverso i suoi quadri, che entrano anche famosi negli anni, arriverà a presentarli a Roma, ed è emblematica anche una notte del 61, quando a Roma c'è una mostra dedicata a lui, e lui, per la vergogna, comincia a girare per le strade della capitale, senza andare alla mostra a lui dedicata, girovagando. Un personaggio fuori dagli schemi, un'interpretazione pazzesca di Germano, lo ripeto che, secondo me, ha tutte le carte in regola per vincere il David di Donatello, e si afferma come uno degli attori italiani più trasformisti, anche fisicamente, con l'aiuto anche del trucco, il truccatore del film aveva già partecipato e vinto un David di Donatello per Dogman, e è riuscito poi a trasformare anche nel volto le sembianze di Elio Germano nel pittore Antonio Ligabue. Quindi, una vita fatta di stenti, che non riuscirà mai ad avere la propria rivincita, perlomeno era un uomo che cercava solo un po' d'amore, un po' d'attenzione rispetto agli altri, e anche sulla sua lapide verrà scritto questo, che quei pochi sono riusciti ad amarlo, hanno veramente capito chi era Antonio Ligabue, e l'animo che aveva questo personaggio, che ci ha tramandato tantissimo attraverso l'arte, che non morirà mai, perché, come si dice, è l'unico segno del nostro passaggio sulla Terra, quindi un'arte che riesce a trasmettere veramente quello che aveva dentro. Fotografia straordinaria, anche la scenografia che ricrea quella Reggio Emilia, quell'Emilia Romagna, di un passato veramente che non c'è più, con questi colori, questo verde, ovunque, questa tranquillità, anche la colonna sonora che ti trasmette quel senso di tranquillità che lui li trova dopo essere andato via dalla svizzera, ma che non riuscirà mai a trovare in mezzo alle persone, nemmeno quando negli anni passerà da un ospedale psichiatrico ad una clinica ad un'altra, e nessuno riuscirà mai a curarlo per davvero, perché certi traumi te li porti veramente fino alla morte. Io vi chiedo se a voi il film è piaciuto, cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti, seguiteci su feige.it, dove pubblichiamo quotidianamente storie, raccontiamo storie dei film, delle serie di V, e vi consigliamo di vedere questo film il prima possibile, perché è veramente un ottimo prodotto del cinema italiano contemporaneo. Io sono Valerio Novara, vi saluto e vi do appuntamento su Feige Network. Ciao, ciao!